Ciao e oggi parlo di otto tipi da Slater.io Quelli di passaggio Tipo questo Va e ti ignora Seconda tipologia I serpentoni Sono semplicemente quelli grandi Molto grosso eh Terza tipologia L'homing attacker L'homing attacker cerca di seguirmi finché mi mangia Quale tipologia? I suicidisti I magnoni Mangione, mangione Ecco Questi sono tutti i magnoni Vedete? I grossi homing attacker Sono quelli che ti circondano Sono intrappolato Vedete? Sono quelli semplicemente che vogliono restare nel sud Così non incontreranno mai molti pericoli Sono quelli che fanno del tipo Iaihuuu Haiiii Hyperspin Hyperspin Turbospin Turbospin ahhh